Ragazzi, vittoria storica per Bitcoin e il mondo delle criptolute contro la secca americana. Infatti, Binance ha vinto l'udienza e soprattutto il giudice federale ha definito come la vendita di BNB da parte di Binance non è definibile come una vendita di security. Automaticamente questo porta a essere BNB a non essere una security e questo potrebbe impattare il mercato in modo molto molto forte. Ciao a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Innanzitutto vi auguro un buon mercoledì mattina a tutti e in questo video ragazzi voglio aggiornarvi con le ultime news relative al mercato delle criptolute. Infatti passeremo per la criptoregolamentazione MICA con USDC, Tether, eccetera, eccetera. Andremo a vedere le ultime news che hanno impattato il mercato che in realtà stanno passando anche un po' in sordina che appunto, come ho detto anche nell'intro, è la vincita da parte di Binance per quanto riguarda appunto la causa contro la SEC che la SEC stessa accusava appunto Binance di vendere delle security vendendo appunto BNB, cosa che il giudice ha ritenuto non veritiera. Inoltre in questo video voglio mostrarvi un grafico molto molto importante che ci potrebbe far capire come potrebbe svilupparsi la price action appunto di Bitcoin e a cascata sul resto delle criptolute nel futuro prossimo. Prima però di andare a vedere tutto nel dettaglio ti chiedo come sempre di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoci al canale stesso. Hai fatto? Perfetto, basta perdersi in chiacchiere e passiamo con la visuale a PC. Allora ragazzi partiamo immediatamente con la visuale su investing.com perché volevo andare a contestualizzare insieme a voi un attimo un dato, il dato del CPI Numbers che comunque sia è stato in linea rispetto alle aspettative, sto parlando dei CPI Numbers in Eurozona. Di conseguenza questo potrebbe essere incoraggiante per comunque sia la Banca Centrale Europea per valutare nel futuro prossimo un ulteriore taglio dei tassi e di conseguenza rincominciare a stimolare l'economia nel futuro prossimo. Quindi diciamo che almeno per adesso si è rivelato un dato rispetto alle aspettative conguro. Attenzione ad oggi perché è l'Independence Day negli Stati Uniti, infatti il mercato chiuderà alle 13. Però come potete vedere inizieranno e usciranno dei dati molto importanti come per esempio l'Initial Jobless Claims, lo Standard & Poor's Global Services BMI e diversi altri dati, ok? Attenzione però stasera perché ci sarà l'FOMC Meeting Minus che sono i report appunto che la Federal Reserve presenta alla Commissione appunto per le politiche monetarie eccetera eccetera, ok? L'abbiamo già visto, è un evento che avviene più volte ogni mese quindi ragazzi attenzione a questo dato. Passiamo con la notizia cardine che sta facendo fomentare tutto il mercato delle criptolute, ok? Anche se, a parere mio, non abbastanza perché non si apprende questa cosa potrebbe significare. Infatti SEC contro Binance, il tribunale stabilisce che le vendite di BNB e di cripto non sono titoli. Che vuol dire? Secondo il giudice Amy Berman Jackson della Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia le criptovalute e le vendite secondari di BNB non costituiscono offerte di titoli. Infatti il tribunale ha ritenuto che la SEC non è riuscita a dimostrare nel pratico che gli acquirenti del mercato secondario hanno acquistato BNB con l'aspettativa di profitti piuttosto che altri usi e questo ragazzi è un criterio fondamentale per andare a definire una security attraverso appunto il test di HomeWe. Questo non porta sotto una buona luce soltanto Binance ma tutto il mercato delle criptovalute in generale. Sapete cosa significa? Come potrebbero impattare tutte le altre cause come per esempio quella in atto con Coinbase quella in atto con i vari exchange che ha deciso durante il corso del tempo la SEC di andare a cercare di minare e cercare di dimostrare che abbiano venduto durante il corso del tempo delle security non registrate come per esempio ragazzi vi ricordo anche lo stesso Kraken che è sempre in disputa con la stessa SEC che è appunto il dipartimento della regolamentazione dei mercati finanziari negli Stati Uniti ma ragazzi questo potrebbe influenzare direttamente anche tutte le altre cause in modo positivo questa secondo me è una notizia super bullish per quanto riguarda il mercato delle criptovalute in generale ma soprattutto per le altcoin. Il governo tedesco sta continuando a dampare le proprie allocazioni di Bitcoin infatti vediamo come nelle scorse ore abbia continuato a spostare varie allocazioni in Bitcoin per esempio 138 in Bitcoin, 361 in Bitcoin, 32 in Bitcoin, 550 da il proprio portafoglio verso o dei portafogli comunque sia sconosciuti o comunque sia ancora non etichettati o verso exchange centralizzati come per esempio Kraken, come per esempio Coinbase, come per esempio Bitstamp sapete bene che quando un'entità a prescindere che sia un'entità istituzionale, governativa o anche retail privata tendenzialmente perché mai dovrebbe spostare da un portafoglio decentralizzato quindi in self custody verso un exchange logicamente al 99,9% è per dampare, per andare a distribuirle al mercato quindi stiamo vedendo come a partire proprio negli ultimi giorni anzi mettiamo il grafico mensile a partire proprio dal 19 giugno abbiamo visto l'ammontare detenuto appunto da il governo tedesco passare da 50.000 fino a 43.000 hanno già distribuito a mercato o comunque si hanno spostato verso exchange centralizzati per distribuire a mercato circa 7.000 Bitcoin il che è un'ammontare abbastanza interessante ne detengono ancora 43.000 però comunque la tendenza è quella ovvero andare a fare profitto attenzione si è espresso il policy director e il CSO ovvero Dante di Sparte un nome alquanto singolare comunque sia si è espresso in materia di regolamentazione di crypto loot eccetera eccetera ora se la stanno un po' giobbando perché sono gli unici ovvero Circle ad avere ottenuto la fully compliant per quanto riguarda USDC e EURC per quanto riguarda la regolamentazione mica infatti sono diventati un asset completamente regolamentato in Europa questo a discapito anche di Tether ora fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti ci sono varie discussioni a riguardo che l'USDT adesso è diventata automaticamente e per adesso nessuno l'ha confermato nessun report ufficiale di nessun ente governativo ha confermato ciò che possa essere diventato automaticamente una stablecoin non riconosciuta o meglio questo è dichiarato che non è riconosciuta però questo automaticamente potrebbe farla diventare un non E-Money token praticamente non è un E-Money token e di conseguenza andare a vendere le proprie criptolute per scambiarle in USDT non dovrebbe essere rilevante dal punto di vista fiscale ora ragazzi non voglio entrare nel merito voglio comunque sia prendermi del tempo per andare ad approfondire la questione prima di andare a toccare dei punti che comunque sia sono ancora grigi diversi anche esperti avvocati eccetera eccetera fiscalisti ancora non hanno idea di come interpretare questa situazione però quando avrò delle informazioni certe o comunque sia molto molto attendibile andrò a comunicarvelo tra l'altro se ci sarà l'occasione vorrò magari invitare un avvocato o comunque sia un fiscalista esperto in questo settore magari per andare a delucidare qual è la migliore opzione per andare a non fare cash out se ha senso appunto andare a detenere USDC, USDT o altre stablecoin eccetera eccetera comunque sia non vi preoccupate però nel frattempo fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate a riguardo di tutta questa situazione che USDC e EURC sono diventati completamente legali in Europa attraverso appunto la regolamentazione mica e invece USDT secondo voi che fine farà a livello di capitalizzazione a livello di utilizzo eccetera eccetera fatemelo sapere qui sotto ma adesso continuiamo perché la SEC ha preso visione del form di 19b-4 per quanto riguarda l'ashdex, nasdaq, crypto index, us, etf in pratica stiamo parlando di un asset che comprende al suo interno Bitcoin e Ethereum ragazzi stiamo vedendo sempre più questi enti emittenti lanciare a mercato strumenti che vanno a replicare soprattutto Bitcoin ed Ethereum siamo arrivati ad un grafico molto importante che volevo farvi notare ok ovvero è il grafico del FedNet Liquidity Rate of Change praticamente sta a prendere in considerazione il cambiamento a livello percentuale per quanto riguarda la liquidità netta della Federal Reserve ok della banca centrale americana infatti vediamo come quando abbiamo avuto una grossa impennata verso il rialzo di un valore positivo tendenzialmente Bitcoin è incentivato a fare una performance positiva l'ultima volta che è successa un'impennata del genere come stiamo iniziando a vedere negli ultimi giorni nelle ultime settimane abbiamo visto poi Bitcoin fare una performance del 40% ok sapete bene quanto tendenzialmente Bitcoin è dipendente come in realtà anche tutti gli asset a risk on dalla liquidità dei mercati compreso ovviamente della banca centrale americana banca centrale europea eccetera eccetera ok ma soprattutto quelle della banca centrale americana perché è la più importante è quella che fa più da catalizzatore per quanto riguarda le altre banche centrale a livello globale ok quindi attenzione perché stiamo vedendo una mobilitazione da livello percentuale positivo per ciò che riguarda la netta liquidità detenuta dalla Fed e questo è una cosa molto molto positiva per ciò che riguarda gli asset a risk on o meglio quando abbiamo un'impennata molto forte verso il rialzo tendenzialmente Bitcoin tende a reagire in modo molto molto positivo ragazzi prima di continuare volevo parlarvi molto brevemente di un exchange exchange che comunque si ha delle regolamentazioni negli Emirati Arabi Uniti tra l'altro ha anche una promo esclusivamente dedicata ai residenti italiani infatti creando un account effettuando un KYC c'è la possibilità di ricevere 20 USDT 20 USDT che appunto sono prelevabili direttamente dall'account M2 stiamo parlando appunto di M2 che come ho detto prima è regolamentato presso la Abu Dhabi Global Market e anche qui comunque sia andate a vedere tutto nei dettagli vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione tra l'altro Phoenix Group che rientra tra le più grandi mining company del settore ha investito e detiene delle shares per quanto riguarda M2 che è appunto quest'ultimo exchange che abbiamo visto stiamo parlando di un exchange centralizzato che dà la possibilità di andare ad operare su più fronti per quanto riguarda il mercato delle crypto loot infatti potete vedere come c'è la possibilità selezionando all product di andare a utilizzare lo spot trading il mercato dei futures addirittura l'OTC desk e tantissime altre sezioni come per esempio l'earn andando a vedere molto rapidamente il mercato dei futures vediamo come sia molto facile ed intuitivo andare a utilizzare questa tipologia di exchange è possibile andare ad operare in leva su varie coppie criptovalutare detenendo almeno per adesso USDT come collaterale ha un token ufficiale che appunto MMX e come ogni altro token del genere dà la possibilità di andare a ottenere dei vantaggi utilizzando l'exchange ok inoltre c'è un'altra sezione molto interessante dove dà la possibilità ovvero la sezione earn di andare a mettere e a rendita le nostre crypto loot come per esempio USDT, Ape, BTC eccetera eccetera abbiamo per esempio su USDT a seconda ovviamente di quanto li teniamo bloccati se è un fixed o comunque sia flexible program comunque sia vediamo come dà la possibilità di ottenere un massimo di circa il 10% di APR tra cui anche un 9% di APR su Bitcoin il che non è affatto male comunque sia per chi fosse interessato lascio qui tutti i link qui sotto in descrizione perché come vi ho detto prima iscrivendovi verificando l'identità riceverete 20 USDT prelevabili direttamente dal tuo account M2 ma soprattutto c'è la possibilità di ottenere un voucher di circa 260 USDT da utilizzare come commissione di trading completando le azioni nell'M2 Rewards Hub ma comunque sia non vi preoccupate perché vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione perfetto ragazzi passiamo con il vedere come si stanno comportando i mercati vediamo che abbiamo un mercato in ricorrezione mercato in ricorrezione evidentemente dato che abbiamo TAO che perde un meno 16,6% BRETT un meno 10,5% AVE un 8,3% ma in linea generale vedete come tendenzialmente abbiamo un mercato in ricorrezione dato che quasi tutte le bolle sono in rosso ed alcune stanno perdendo anche un 6,8% un 8 di nuovamente un 8,8% insomma diciamo che abbiamo veramente tante altcoin che stanno ricorreggendo il bounce assorbito comunque sia negli ultimi giorni sul settimanale comunque sia rimaniamo fortemente negativo soprattutto su diversi rom importanti come per esempio Notcoin, come per esempio FET, 6 eccetera eccetera ma passiamo con il vedere come si sta comportando il mercato innanzitutto è evidente come la Global Crypto Market Cap stia perdendo nelle ultime 24 ore un 2,49% andando a riassorbire praticamente tutto il gain che avevamo fatto negli scorsi giorni infatti Bitcoin perde un 3,49% nelle ultime 24 ore assestando il proprio prezzo a 60.920 dollari Ethereum allo stesso modo perde un 2,86% assestando il proprio prezzo a 3.354 dollari in linea generale vedete come tendenzialmente la maggior parte dell'alcoin stia perdendo terreno infatti abbiamo BNB che perde un 1,65% poi abbiamo Dogecoin un 1,26% ma in linea generale vediamo come tendenzialmente il mercato abbia regito soprattutto anche alle parole del presidente della Federal Reserve ovvero Jerome Powell dove ha dichiarato durante lo speech di questi giorni di ieri in realtà che l'inflazione potrebbe ritoccare il 2% soprattutto nelle ultime parti del prossimo anno o addirittura l'anno successivo e questo cosa potrebbe implicare? Potrebbe implicare ovviamente che le persone hanno inteso come dei possibili tagli di tassi di interesse potrebbe ulteriormente posticipare o meglio questo è quello che ha inteso il mercato andiamo a vedere appunto i flussi dal punto di vista dei Bitcoin ETF sulle borse americane abbiamo avuto un deflusso di meno 442 Bitcoin nelle ultime 24 ore per quanto riguarda l'ultima sessione di ieri ma adesso passiamo con il vedere come si sta comportando il mercato in realtà non è cambiato chissà cosa infatti abbiamo sempre gli stessi livelli che dobbiamo mantenere il livello più importante con delle chiusure sono i 60.262 dollari quindi ragazzi attenzione l'importante è che non perdiamo con una chiusura confermata sul daily questo livello è anche vero che se dovessimo magari chiudere a 59.300 dollari per poi risalire e andare a riprendere i 63.500 dollari non sarebbe così disastroso tuttavia se dovessimo andare a prendere addirittura la liquidità sotto i 58.289 dollari che ricordo è quest'ultimo minimo calcolando anche la spike tendenzialmente allora le probabilità di una continuazione di ribasso potrebbero essere più accentuate fino a dove potremmo arrivare ovviamente l'altro livello più importante da prendere sono i 58.300 dollari che è appunto la chiusura di questo minimo relativo formatosi appunto tra il primo maggio e il 2 maggio tendenzialmente anche qui se dovessimo andare a prendere questo livello l'importante è non perderlo con una chiusura comunque stiamo a vedere nelle prossime ore come si comporterà la situazione tutti i livelli comunque sia di forte importanza li troviamo al di sotto di questa zona purtroppo al di sotto dei 58.200 dollari abbiamo una fascia proprio una fascia di prezzo a livello volumetrico che è molto molto scarsa infatti vediamo come tra sotto il minimo dei 60.300 dollari fino ad arrivare poi i 52.300 dollari purtroppo abbiamo tutta questa fascia qui con scarsissimo interesse volumetrico quindi ragazzi la situazione rimane abbastanza invariata l'importante è non perdere questi minimi perfetto ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione per andare ad approfondire la nuova promo dell'exchange centralizzato M2 se non l'avessi ancora fatto ti chiedo di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoti al canale stesso per gli iscriviti invece noi ci vediamo nel prossimo video ciao